A lui non l'avreste chiesto, di Veronica. Dato che sei così giovane, sei anche fidanzata? Quella domanda ha il potere di lasciarmi interdetta, è l'unica che non avevo previsto. Eppure la risposta è la più semplice di tutte. Sì, sono fidanzata da tre anni e sono contenta di esserlo. Nei giorni precedenti mi sono talmente impegnata a prevedere domande e risposte da non aver considerato un fattore importante. Perché ti pongono quel quesito? E perché lo stanno chiedendo proprio a te? E che lavoro fa il tuo fidanzato? Perché adesso si sta parlando di Enzo? Sono io a sostenere il colloquio. Ormai però non posso più tirarmi indietro. Rispondo che è uno sviluppatore software e che lavora in centro da qualche anno. Ha un contratto a tempo indeterminato? Vorrei quasi chiederle se vogliono assumere Enzo al posto mio. Tanto sembrano interessate a lui. Non contano la mia presentazione impeccabile, il fatto che abbia studiato le peculiarità dell'azienda o che abbia le competenze tecniche. Sono fidanzata. Ha più peso di tutto il resto. Grazie.